Ok, andiamo subito al topic di questo talk. Che cosa vedremo oggi? Vediamo un pochettino RUG, è stato già discusso ampiamente questa mattina, me ne rendo conto, però rifacciamo un'overview generica di come può funzionare un sistema RUG, poi andiamo a fare un'overview generica di come funziona il platform engineering e poi mettiamo sostanzialmente platform engineering e RUG assieme. Ok, allora RUG sostanzialmente è un sistema che permette di combinare delle richieste dell'utente con delle informazioni, diciamo, in possesso del sistema per generare risposte più accurate e basate sul contesto. Questo significa, ad esempio, che se c'è un chatbot con AI all'interno di un sistema di prenotazione viaggi e magari questo sistema ha a disposizione i miei viaggi precedenti, una volta che io chiederò una nuova destinazione lui potrà tenere in considerazione tutte le destinazioni in cui, diciamo, sono stato per darmi dei suggerimenti magari basati su quelle che sono le mie passioni, i posti che amo vedere, ad esempio, se sono appassionato, insomma, di visitare posti in Asia, magari mi suggerirà nuove nazioni da visitare lì, oppure, banalmente, ancora più semplice, siccome magari già sono stato in Giappone, non mi suggerirà di nuovo un nuovo viaggio in Giappone. E queste cose sono estremamente importanti perché permettono, come abbiamo visto stamattina, di generare delle risposte più accurate, più efficienti, meno tempo, e soprattutto che soddisfano molto di più l'utente. Allora, andiamo a vedere velocemente in uno schemino non troppo accurato come funziona un sistema di questo tipo. Allora, abbiamo dei dati, ok? Questi dati potrebbero essere, nel caso dell'esempio dei viaggi che vedevamo precedentemente, tutte le località dove sono già stato in viaggio a disposizione, ovviamente, del sistema. Ovviamente, per ognuna di queste località avremo a disposizione un, chiamiamolo, contesto. Quindi, che ne so, ho visto il Giappone, ma solo una determinata area, solo alcune città, ho fatto un giro turistico di un certo tipo, quindi magari mi sono fermato esclusivamente in una città, piuttosto che ho fatto un round trip in giro per il Giappone, eccetera, eccetera. Cioè, questa parte è la parte dei dati. A questo punto l'utente, il nostro giovane Jedi, decide di fare una domanda. Quindi, quale sarà il mio prossimo viaggio? Dove posso andare per il mio prossimo viaggio? Cosa succede? Che un sistema, che potremmo chiamare di, diciamo, creazione di similitudini, va a prendere dal contesto, rispetto a quello che è stato scritto sulla domanda, dei possibili documenti che soddisfano o che possono essere inerenti a quello che, appunto, ha scritto l'utente. A questo punto, il sistema estrapola una serie di documenti rilevanti. Quando parliamo di documenti, badate bene, noi non parliamo di un file word. Potrebbero essere documenti scritti, immagini, audio, qualsiasi altra cosa. Ovviamente, tutte queste cose vengono fatte in maniera che poi gli algoritmi che gireranno e processeranno queste informazioni sono in grado di comprenderle. Quindi, tipicamente, vengono convertiti in vettori, e poi dalla similitudine dei vettori vengono estrapolati i documenti e questi documenti poi vengono dati in pasto assieme al prompt a un nostro sistema di AI che lo prende, elabora fondamentalmente tutto quello che c'è da elaborare per fornire una risposta e questa risposta viene fondamentalmente ritornata all'utente. E fin qui, diciamo, il giro è abbastanza chiaro. Una cosa importante qui, molto, come dire, con le pinze, la risposta e tutta la conversazione che è avvenuta all'interno, diciamo, del nostro chatbot, se torniamo ad esempio precedente, ovviamente può essere utilizzata per andare a rimpolpare i dati che abbiamo visto precedentemente. Quindi, se io ho chiesto quale meta mi consigli in Asia e lui mi suggerisce di andare in Giappone, ovviamente, magari io all'interno della richiesta ho inserito delle informazioni rilevanti sul fatto che il Giappone non mi piace, eccetera, eccetera, che potrebbero andare a generare dei nuovi dati per futuri contesti. Questa è una cosa estremamente importante, anche perché spesso i dati che utilizziamo all'interno, diciamo, di questi sistemi provengono da delle fonti esterne, ok? Quindi, avendo i dati che vengono generati man mano e i dati dalle fonti esterne, possiamo tendenzialmente avere dei contesti molto, molto efficaci. Ok, passiamo alla parte di platform engineering. Allora, che cos'è il platform engineering? Sostanzialmente è una disciplina che ha in focus il disegno, lo sviluppo e la gestione di piattaforme. Quando parliamo di piattaforme, possiamo immaginarle come un set standard di tool e servizi che facilitano, diciamo, lo sviluppo. Quando in questa presentazione parleremo di sviluppo, sviluppatori, developer experience, eccetera, eccetera, ovviamente ci riferiremo a questi concetti secondo la vostra figura. Quindi, la developer experience per una persona che si occupa di machine learning è sicuramente molto simile a quella di developer, anche se può avere delle sfaccettature diverse. Utilizzeremo developer experience o developer o sviluppo giusto per essere più concisi sulla discussione. Allora, qual è l'obiettivo del platform engineering? Che tendenzialmente è la domanda che viene più fatta all'inizio di ogni discussione. Sostanzialmente è quella di migliorare la developer experience. Sostanzialmente permettendo di avere interazioni di qualità e permettendo agli sviluppatori di, come dire, migliorare il loro risultato a parità di effort. La developer experience è un argomento vastissimo, può essere ottenuta in migliaia di modi diversi, ma sappiate che il platform engineering e gli strumenti messi a disposizione del platform engineering permettono di migliorare la developer experience. Un altro appunto estremamente importante che dobbiamo fare in questo discorso è relativo al fatto del il platform engineering è una metodologia. Questa è una cosa a cui io tengo tantissimo. Quando parliamo di platform engineering è come se parlassimo di DevOps. Quindi DevOps non è un tool. DevOps è una metodologia basata sull'automazione che permette di agevolare, automatizzare i flussi e tutte le cose che sappiamo, ma poi come si implementano pratiche di DevOps utilizzando dei tool, un GitLab di turno, un GitHub Action e così via. Platform engineering, stessa cosa. Noi abbiamo la metodologia che è il platform engineering e poi dei tool che ci permettono di implementarla. Allora, quali sono le caratteristiche chiave? Perché ve ne parlo oggi? Allora, le caratteristiche chiave sono sostanzialmente N, ma io ve ne elenco sei. Allora, la prima cosa è quella di centralizzare tutto. Quando parliamo di centralizzare tutto intendiamo centralizzare il software, la gestione dell'infrastruttura, la gestione della piattaforma, la gestione di variabili, i repositori di codici, i repositori di dati, insomma tutto quello che può essere centralizzato nel campo dello sviluppo software. Questa categoria, questa caratteristica è estremamente importante perché spesso quando iniziamo progetti nuovi di qualsiasi tipo, uno dei problemi più grandi che abbiamo è che ci servono gli accessi a N strumenti diversi e questa cosa ovviamente genera entropia. Questa entropia si traduce in dover chiedere al collega cosa, dove trovo un determinato accesso, dove posso vedere le dashboard, dove vado per fare il deploy, dove sono i repository, dove sono stati spostati, dove sono le variabili e così via. Avere tutto in un singolo posto ovviamente agevola molto lo sviluppo. Ovviamente è un layer sopra il DevOps, l'Ops in generale, quindi un altro dei suoi punti cardine è quella di cercare di automatizzare quanto più possibile, insomma tutto. Questo significa, ad esempio, cercare di automatizzare i cicli di sviluppo, i cicli di rilascio, la creazione di nuovi ambienti, di nuove istanze dove poter fare degli esperimenti, eccetera, eccetera. Ovviamente il risultato di queste due cose, ma anche di altre, è quello di rendere gli sviluppatori maggiormente efficienti, e quindi prevenire eventuali cogliere di bottiglia, insomma situazioni poco desiderabili. Tutte queste cose devono essere fatte in maniera self-service. Questo significa che lo sviluppatore non ha più necessità di chiedere a qualcuno, ad esempio, di effettuare il deploy per lui, ma avendo il permesso corretto, può andare all'interno della piattaforma e effettivamente effettuare un deploy in maniera del tutto automatica. Oppure arriva un nuovo progetto, ho bisogno di un nuovo ambiente dove potrà fare i miei test in cloud, con una serie di pratiche, clicco magari dei bottoni, o lancio dei comandi da una CLI, a quel punto posso, in maniera autonoma, generare le cose, ovviamente avendone permessi. Questa è una cosa estremamente importante. Deve essere semplice, quindi deve essere possibile utilizzarlo anche da persone che non hanno competenze specifiche in un ipotetico campo, e quindi interfacce grafiche, applicazioni web, come dicevo prima CLI, dove poter lanciare dei comandi, magari ben documentati, e tutto, insomma, così. E deve permettere in maniera semplice di introdurre pratiche relative alla qualità. Quando si parla di qualità, si parla, ad esempio, di riutilizzare il codice, permettere, diciamo, alle persone di conoscere che cosa è il sistema, che cosa all'interno del sistema è già stato sviluppato, e riutilizzarlo, ma anche, banalmente, inserire degli step obbligatori di test all'interno delle pipeline, o cose così. Ok, andiamo a vedere un pochettino perché vi parlo di questa cosa. Allora, vi parlo di questa cosa perché ipotizziamo la creazione di un nuovo progetto, ed io qui l'ho messa in generale sullo sviluppo software. Abbiamo tendenzialmente tre fasi, ok, potrebbero essere molte di più, ma noi semplifichiamo e guardiamone solo tre. La prima fase è ho necessità di creare un nuovo progetto, quindi devo, ad esempio, creare l'infrastruttura e fare alcune azioni. Dopo che ho, diciamo, fatto il setup di tutto quello che mi serve, ho necessità di creare nuove funzionalità intorno al progetto, quindi fare il login, puoi aggiungere una schermata di home dove l'utente può vedere delle informazioni e così via. E alla fine di uno o più cicli di sviluppo di funzionalità ho necessità di mettere queste cose online. Ok, se lo immaginate, il lato, diciamo, più machine learning, AI, eccetera, un nuovo progetto potrebbe essere avere da qualche parte i dati, avere da qualche parte degli algoritmi e dei modelli già predestrati, metterli assieme, poi aggiungere o fare in modo che queste cose comunicano fra loro per generare degli output, magari creare un chatbot, creare del codice o delle cose che ci permettono di poi effettivamente far utilizzare quello che abbiamo creato e a un certo punto mettiamo tutte queste cose online e diamo accesso ai nostri utenti che potranno in maniera del tutto facile e veloce poterle utilizzare. E così via. Ovviamente il ciclo di nuove funzionalità deploy può ripetersi n volte, questo dipenderà ovviamente dal progetto, così come ogni tanto ci capiterà di creare un nuovo progetto e quindi si tornerà, diciamo, alla fase iniziale. Per fare queste cose in un mondo basato sul cloud, le operazioni per creare un nuovo progetto possono essere, ad esempio, ne ho messe solo alcune, ma ovviamente ne potrebbero esistere molte, molte altre, potrebbe essere creare infrastruttura, creare ambienti diversi, ad esempio uno per i test e uno per la produzione, agganciare al mio sistema dei tool perché voglio, ad esempio, vedere in quanto tempo una determinata richiesta viene soddisfatta e quindi ho necessità, ad esempio, di inserire i tool di monitoring, tool che mi permettono di analizzare le cose, insomma, tool generici. Poi ho necessità di automatizzare delle cose perché non voglio ovviamente far tutto a mano e quindi un nuovo progetto, automatizzo le cose che posso automatizzare che saranno, diciamo, utili per chi farà lo sviluppo e infine ho necessità di dare dei permessi ad altre persone che magari svilupperanno quel progetto con me. Una volta fatto questo, quando vado a sviluppare una nuova funzionalità, ad esempio, in genere, cosa devo fare? Devo occuparmi, ad esempio, della creazione delle cartelle, del loro versionamento, insomma, di un po' di cose così, delle cose di automazione che magari mi permettono di, se lavoro a microservizi, andare a effettuare il continuous integration e continuous delivery all'interno dei miei servizi, poi magari containerizzarli e poi magari connetterli. Connetterli può significare tante cose, può significare esporre l'API su un API portal, potrebbe significare esporre l'API per una app mobile piuttosto che un sito web, potrebbe essere collegare due servizi fra loro che devono comunicare per effettuare delle cose, insomma, e così via. Andiamo all'ultima parte. Nell'apploio, ovviamente, cosa devo fare? Devo poter scegliere l'ambiente dove voglio deployare, devo poter scegliere la versione che voglio deployare, perché magari voglio lasciarmi aperte le possibilità di fare il rollback e tutte quelle cose lì. Ovviamente, anche in questo caso, preferirei avere un sistema di continuous integration e delivery che mi permetta di deployare in maniera più agile, e una volta deployato, ci sarebbe un'altra categoria a parte, che è tutta quella di monitoring, debug, alerting, quindi il sistema va giù, allora voglio ricevere un'email, piuttosto che un SMS che mi dice, guarda che il sistema sta per andare down, oppure in down, e quindi va ripristinato, vanno fatte delle operazioni di alcuni tipi. Ora, io non so chi mi sta ascoltando, che il lavoro fa, ma considerando che queste sono delle cose abbastanza, diciamo, estremamente importanti, ma che spesso non hanno a che fare con lo sviluppo software, e spesso non hanno a che fare con lo sviluppo di sistemi di machine learning, AI, eccetera, eccetera. Allora, io ho fatto una piccola analisi, la mia analisi è questa qua. Le caselle in verde sono cose che al developer tendenzialmente interessa poter fare, in maniera facile, no? Quindi io voglio poter gestire manualmente permessi, oppure voglio poter gestire manualmente dove andare a deployare, quale versione del software voglio andare a deployare. Però l'infrastruttura, ad esempio, non è una cosa che mi interessa moltissimo, a meno che non mi occupo di quello, e magari mi occupo di scrivere codice, gestire l'infrastruttura non è una cosa che vorrei fare, io vorrei svegliarmi la mattina e trovare l'infrastruttura già lì pronta all'uso. Sui tool, sì, magari voglio farli, quindi le caselline rosse, diciamo, sono cose che preferirei non fare, preferirei che fossero automatiche, che in maniera magica apparissero all'interno del mio progetto. Mentre per le cose gialle, ad esempio i tool, ad esempio se decido di fare il monitoring della mia applicazione, può essere interessante aggiungere un nuovo tool, provarlo, vedere che cosa mi permette di fare. Però se poi devo creare dieci progetti che utilizzano quel tool di monitoring, io personalmente preferirei che questa cosa venga automatizzata. Ok, quando parliamo di piattaforma, parliamo di permettere all'utente di fare tutte queste cose in maniera quasi out of the box. Quindi, facciamo un esempio stupido, quando creo un nuovo servizio che integra un modello, diciamo, di machine learning, in automatico verranno create delle API che verranno esposte, verrà attaccato un sistema di logging, di monitoring, di debugging, senza che l'utente che ha, diciamo, deciso di fare queste cose le faccia poi effettivamente in maniera manuale. E questo ovviamente è un grosso vantaggio. Lo strumento che permette quindi di applicare queste pratiche di platform engineering è l'Internal Developer Portal. Ok, ovviamente abbiamo parlato prevalentemente di infrastruttura, ma non abbiamo parlato tanto di altre due cose che, secondo me, ma in realtà secondo anche molte altre persone, tra cui Giulio D'Oggero, che insomma ho il piacere di nominare, sono estremamente importanti, sono la parte relativa ai dati, oggi viviamo in un mondo in cui i dati sono estremamente importanti, e la parte di composabilità. Giulio, che ho nominato poco fa, ha deciso di coniare questo nuovo termine, platform engineering plus plus, per tenere conto di tutto quello che abbiamo visto prima, ma aggiungere a questo due importanti tasselli che sono appunto quello del dato e quello della composabilità. Allora, ovviamente queste due cose sono due cose estremamente importanti. La prima ci permette di comporre nuove applicazioni utilizzando dei tasselli, un po' come se fossero dei mattoncini Lego preesistenti, e la seconda cosa è la possibilità di gestire in maniera estremamente efficace i dati. Quindi, ad esempio, nell'esempio precedente, poter prendere la discussione in input dell'utente e utilizzarla come nuovo contesto per poi soddisfare future richieste. Allora, andiamo a vedere cosa significa comporre la tua applicazione. Comporre l'applicazione può significare varie cose, ma le tre caratteristiche chiave di cui volevo discutere oggi sono la modularità, quindi quando io genero qualcosa di componibile, questa di per sé deve essere riutilizzabile. Quindi, ad esempio, se addestro un algoritmo per rispondere a domande generiche dell'utente, io posso prendere quello stesso sistema e utilizzarlo out of the box in un nuovo sistema. Deve essere flessibile, quindi mi deve permettere in un qualche modo di aggiungere dei componenti a dei componenti preesistenti, quindi ad esempio, se abbiamo il nostro sistema che ci permette di fare dialoghi con un chatbot, devo poter, in maniera abbastanza semplice, riuscire ad aggiungere il contesto richiesto da RUG. E poi devono essere interconnessi per permettere di, appunto, essere utilizzati in contesti diversi, in ambienti diversi e in posti sostanzialmente diversi. Poi c'è tutta una parte relativa ai dati. Quindi, quando io lavoro su sistemi sostanzialmente di machine learning, ho necessità di poter gestire in maniera molto efficiente i dati che, insomma, arrivano da fonti esterne oppure che vengono in un qualche modo generati. Quindi devo avere la possibilità di integrare i dati da un sorgente esterno. Questo sorgente deve poter trasferire al mio sistema i dati e poi il mio sistema si occuperà di elaborarli e renderli idonei all'utilizzo che ne voglio fare. Deve permettere un accesso semplificato ai dati. Ovviamente anche questo secondo dei permessi. Quindi se io ho dei dati con tutti i viaggi degli utenti e un nuovo team ha necessità di quei dati per poter creare una nuova applicazione, un nuovo sistema, non devo banalmente trasferirli con la chiavetta, dare gli accessi al cloud, eccetera, eccetera, ma devono essere già lì disponibili per loro qualora ne abbiano il permesso. E poi deve permettere di fare alcune operazioni, quindi ad esempio monitorare che i dati sono raccolti nella maniera corretta, che sono messi al sicuro nella maniera corretta secondo le normative. Prima abbiamo visto un talk molto molto interessante su questa cosa. Mi deve magari mostrare se il flusso diciamo dei dati è ottimizzato e quindi vengono letti e recepiti e utilizzati nei tempi corretti e insomma nelle condizioni che voglio e in generale comunque servono dei sistemi che mi permettono di monitorare quello che sta succedendo all'interno del mio sistema. Bene, allora cerchiamo di mettere queste due cose assieme. Un'altra cosa importante che non ho detto alla fine delle slide c'è un QR code dove potete lasciare un feedback. Se lasciate il feedback nel campo nickname inserite la vostra mail vi giro le slide e tutti i riferimenti che trovate qui all'interno oltre a poi passarli agli organizzatori del group perché magari le condivideranno in un altro modo. Allora, come metto assieme queste due cose? Ritorniamo qui. Ok, questa è una pipeline come dicevo all'inizio semplificata di operazioni che posso fare. Ora, non so se si percepisce ma data ha un verde diverso rispetto agli altri blocchi. Allora, partiamo appunto da data. Come faccio a gestire in maniera efficiente i dati all'interno del mio sistema diciamo in maniera più generale così è stata una cosa importante. Oggi, secondo me, questo è il mio modesto parere, spesso non siamo preparati a gestire veramente i dati perché fino a un paio d'anni fa direi poco più di un anno fa alcune aziende avevano molto a cuore i dati ma per altri erano delle cose che stavano sul DB e poi si viene. Oggi diventa sempre più necessario e indispensabile prendere questi dati e utilizzarli però nell'evoluzione delle cose spesso questi dati sono frammentati e insomma disegnano magari su sistemi diversi rispetto a quelli dove li vogliamo utilizzare e quindi questi vanno portati diciamo da una sorgente al nostro sistema in modo da essere quanto più diciamo disponibili possibili. allora immaginiamo questo piccolo flusso abbiamo sulla destra i sorgenti immaginiamo un database di qualsiasi tipo a questo database dobbiamo collegare un sistema di ingestion quindi deve sostanzialmente prendere i dati dal DB e poterli leggere questo sistema di ingestion a sua volta legge il dato e lo passa a un sistema di refinement quindi che fa sostanzialmente una diciamo delle sistemazioni sul dato delle sistemazioni ad esempio io ho una che dico probabilmente la più stupida magari io potrei avere su alcune tabelle del mio DB le date in formato europeo in un'altra tabella magari averla in formato americano e questa cosa io la voglio evitare voglio averle tutte in formato americano dico una ovviamente a caso allora questo sistema di refinement può prendere il mio dato lo può rielaborare un pochettino e poi può prendere questo dato e inserirlo in quello che si chiama data card data catalog il data catalog non è altro che un tool centralizzato che permette di organizzare gestire e cercare i dati in maniera semplice ovviamente tutto questo sistema può essere generato con dei paradigmi che esistono uno di questi si chiama digital integration hub di IH ribadisco alla fine delle slide ci sono delle referenze dove potete andare a vedere queste cose che permette in maniera facile e alcune volte anche in real time di andare a prendere questi dati dai soggiorgi e andarli a inserire nel nostro data catalog a quel punto ovviamente posso fare delle elaborazioni posso ad esempio creare delle cose che mi permettono di utilizzare il mio dato diciamo nel miglior modo possibile ovviamente secondo il tema insomma è l'utilizzo che ne voglio fare ok la seconda parte invece di cui volevo parlare è questa qua questa qua sostanzialmente è sì fatta diciamo per utilizzare i dati ma molto più vicino al software quindi allo sviluppo di software in varie forme se le prendiamo a parte possiamo ad esempio andare a immaginare che il contesto comunque qualcosa che esiste insomma diciamo in questo esempio lo possiamo trascurare poi abbiamo ad esempio un sistema che permette di fare il match della query dell'utente quindi ad esempio la richiesta al chatbot con il contesto esistente e quindi andare a reperire dei documenti o degli id di documenti poi abbiamo un sistema che prende i documenti e li rende disponibili e poi la richiesta dell'utente più i documenti vengono passati a un altro elemento che sostanzialmente li mette assieme che a sua volta li passa un ulteriore diciamo elemento che può essere il mio modello di AI o di machine learning che da queste informazioni trarà delle conclusioni ovviamente tutta questa parte può essere fatta utilizzando il platform engineering all'interno del platform engineering plus plus uno degli elementi di cui non abbiamo discusso ma estremamente importante è quello che viene comunemente chiamato marketplace sostanzialmente è un posto dove posso andare a inserire il mio software e renderlo disponibile ad altri utenti per poi riutilizzarlo immaginate ad esempio il match service sostanzialmente cosa deve fare deve prendere la richiesta dell'utente in un qualche modo andare in un determinato contesto e prendere dei documenti che matchano la richiesta dell'utente sul contesto specifico questa cosa ovviamente se la guardiamo così senza aggiungere il caso e l'esempio dei viaggi può essere fatto in milioni di contesti diversi quindi io potrei avere da un lato i viaggi dall'altro il suggerimento dei ristoranti preferiti dall'altro potrei avere ad esempio il suggerimento delle serie tv da vedere in determinato contesto e quant'altro quindi io sostanzialmente il match service potrei col platform engineering decidere di scriverlo una volta e riutilizzarlo n volte a seconda diciamo dei contesti a seconda diciamo dei progetti e oltre a questo potrei decidere di metterlo a disposizione del resto della mia azienda in modo che chiunque abbia bisogno di un match service per fare ad esempio questa integrazione può prendere il mio eventualmente vedere come funziona eventualmente apportare le modifiche come in una grande organizzazione open source e utilizzarlo per i propri scopi e così via con tutte le altre cose di questa di questa pipeline ok qua l'ho chiamato episodio 2 perché ovviamente preparando queste slide e questa discussione ho pensato ma quali sarebbe il il passo successivo ovviamente il passo successivo è quello di permettere agli sviluppatori in maniera facile di generare parti di questa piattaforma utilizzando i dati stessi cerco di spiegarmi meglio immaginate che io da sviluppatore di sistemi di questo tipo ho necessità ad esempio di creare un nuovo progetto con determinate caratteristiche magari all'interno del sistema io ho già tutti i dati immaginate non so tutti i sorgenti dati con tutti i dati che possono servirmi allora a quel punto potrei dover scrivere voglio realizzare un nuovo sistema che mi permetta di prendere i dati dei ristoranti e me li suggerisca seguendo queste regole che sono il fatto se ci sono stato oppure no il tipo di cibo che amo mangiare e così via una volta fatta questa cosa io potrei avere un assistente di qualche tipo che dato un prompt mi generi poi dei suggerimenti o addirittura parti della piattaforma che sfruttando gli elementi comuni generino un output specifico ovviamente per fare questa cosa servono delle parti di machine learning diciamo un data fabric dove tenere all'interno i miei dati e poi tutta una parte di composability che è unita a diciamo quello che potremmo chiamare AI engine permettono di soddisfare delle richieste di chi va poi effettivamente a sviluppare all'interno del progetto determinate cose ovviamente questa parte è anche quella che abbiamo visto all'inizio cioè il prendere dei dati e riutilizzarli a favore del sistema in un qualche modo quindi nel caso che abbiamo visto all'inizio era aggiungere un nuovo contesto al sistema in questo caso potrebbe essere suggerire all'utente quali sono gli step successivi da fare per arrivare al dunque detto questo qua ci sono un po' di risorse e come dicevo c'è un feedback form ora se lo riempite un attimo poi vi manderò le mail con le slide e tutti i link volevo anche insomma mettere dei credit ovviamente tutte le immagini sono generate da OpenAI purtroppo io non ho la possibilità di generare immagini così belle presentazione e font sono quelli lì volevo semplicemente informarvi che il 20 giugno a Bologna ci sarà il case di Italy di cui ho l'onore di essere uno degli organizzatori insieme a tante altre persone quindi se siete interessati a saperne di più andate su kcd.pizza non sto scherzando è proprio quello l'url vi rimanderò al sito dove troverete tutte le informazioni detto questo questo è il feedback form o l'url dove potete lasciarmi feedback se avete domande sono qui per voi allora intanto Mitch grazie mille per la presentazione immaginavo qualcosa a tema Star Wars visto che sappiamo sappiamo la tua grande passione quindi non mi potevo aspettare niente di meno da te e sono contenta perché è venuta veramente carina anche il suggerimento di aver seguito la sigla iniziale geniale ma ripeto non mi aspettavo niente di meno niente di meno da te tra l'altro ne approfitto per dire che anche i CD ci sono anch'io che porterò uno speech quindi ci vedremo sicuramente lì mi farà piacere insomma incontrare anche chi ha partecipato a questo evento per chiacchierare un po' l'intervento è stato super interessante io intanto ti propongo una domanda e la mia domanda è un po' particolare se dovessi spiegare il platform engineering a tua nonna come lo spiegheresti? ok glielo spiegherei ovviamente utilizzando una similitudine che possa capire ora io immagino la mia di nonna quindi insomma la cosa che gli spiegherei è che spesso puoi decidere di fare una ricetta partendo da zero e quindi iniziando a cucinare il soffritto poi il sugo il ragù insomma poi puoi decidere di fare la pasta a mano e poi decidere di fare tante cose a mano ovviamente questa cosa richiede tempo e sforzo oppure puoi decidere che alcune piccole cose le fai a mano ad esempio il sugo il ragù eccetera ma altre le puoi prendere già fatte da qualcun altro questo qualcun altro ad esempio nel caso di questa domanda potrebbe essere vado a comprare la pasta già fatta da qualcun altro che magari la fa meglio di me ok perché insomma è esperto nella pasta platform engineering funziona più o meno nello stesso modo quindi io prendo delle cose già fatte dall'esterno e posso riutilizzarle guardate bene dall'esterno significa anche il team l'altra business unit della mia azienda non è per forza un'azienda a terza parti e altre cose invece le faccio io quindi aggiungo il mio valore questo viene e mi permette di essere più veloce fare una ricetta in maniera più più veloce la cosa bella di queste metafore è che quasi sempre anche nel nostro settore coinvolgono la cucina il che si adatta perfettamente al fatto che siamo tra l'altro all'ora di pranzo per cui esatto giusto per far venire un po' di fame benissimo allora se non ci sono altre domande proprio perché siamo verso l'ora di pranzo io direi che possiamo salutarci Mitch io ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento è stato un piacere vederti e ci vediamo tra l'altro tra qualche settimana esatto è stato un piacere essere qui grazie a tutti grazie al GRUSP e grazie a Serena per la fantastica introduzione e la giornata insieme ciao è stato un piacere è stato un piacere è stato un piacere è stato un piacere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti